Roghi e sversamenti di rifiuti continuano nonostante i controlli delle forze dell'ordine. Ieri interventi di forestali e polizia municipale a Terzigno e a Ottaviano. A Terzigno un uomo è stato denunciato a piede libero per incendio boschivo colposo all'interno del parco del Vesuvio. Dopo essere intervenuti sul luogo in cui si sono propagate le fiamme, i carabinieri forestali del nucleo Carabinieri Parco di Ottaviano hanno svolto un'indagine con il metodo delle evidenze fisiche tecnica che permette di ricostruire l'evoluzione dell'incendio attraverso le tracce che la propagazione del fuoco lascia sulla vegetazione. Una volta individuato il punto di insorgenza dell'incendio sono risalite al presunto autore denunciandolo oltre ad elevare una sanzione di 10.000 euro. Aghi, siringhe, pezzi di veicoli, referti medici, documenti sanitari sono stati rinvenuti dagli agenti della polizia municipale di Ottaviano. In una traversa di via Galliano, una stradina che conduce al Vesuvio, gli agenti coordinati dal comandante Rosa Vallone hanno individuato sei enormi buste nere con dentro un materiale sanitario di ogni tipo. La polizia ha effettuato le indagini ed individuato i presunti responsabili, gestori di una struttura specializzata nell'attività di primo soccorso attiva nel territorio vesuviano. Sia i bustoni che l'appezzamento di terra sono stati sequestrati mentre i responsabili della struttura sono stati denunciati alla procura di Nola per sversamento illecito di rifiuti speciali.